Il Dio 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 Se viene io voglio dire questa partita la venga sempre perché il Dio non è una squadra mi bagno mi ha sempre il braccio ho comprato questa 3d non volevo proprio da me da comprare mi era comprato tutto sono venuto quando andato a me Per una partita, possibilmente, faccio sempre sforzi sulle squadre. Se uno... no, Villanova... Sadali o Vodda. Se uno è scoperto troppo forte, no, Sadali ha perduto uno. Se Vodda è una bella squadra. Devo pensare che arriva in terza in classifica. Prima è difficile, perché siamo più forti, per me è su Seulo. La squadra è più forte. Poi, vincere su Menzio, non si scende mai, vincere, 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 vincere. Proccello è... quando passiamo a Vodda Sadali, è a Villanova. Villanova è in un bel ambiente. Noi, quando vi faccio Piccone, Salvatore. Con Piccone, cinque anni, sono Salvatore del Torino Calcio. Scusa, ma sempre giocatore. Sempre giocatore? In seconda categoria, terza categoria. E in campo ha un dico a posto? Devo giocare sempre a centrocampo. Con San Maglia numero? Numero quattro, sempre. Ia, c'è. Sinalala, centromediano metodista? Centromediano. Oh. Ha sessant'anni. Eh, ha sessant'anni. Ehi. Abbattore, con gli ammogliati, con gli aus. Se trattino, con gli ammogliati, con gli ammogliati, con gli ammogliati, con gli ammogliati. Dei 73 anni, il Deo. E' più facile giocare a pallone. Deo bocciato. Ehi. 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 Ehi.